Grazie a tutti. Siete lontanissimi risultati ottenuti nel 2015, c'è attesa per novità sulla prossima programmazione. Questa mattina nella sala di rappresentanza del Consiglio Comunale, conferenza stampa per parlare del protocollo d'intesa tra Pesaro e Alghero. Nel Tg le interviste ai due sindaci, Matteo Ricci e Mario Bruno. A Tovandarico in pieno centro ad Alghero, presa di mira ancora una volta la Madonnina di Portosalve, stavolta è stato rivelto il contenitore delle offerte. Un saluto a tutti voi, ben trovati, è una nuova edizione del nostro telegiornale. Il nostro telegiornale, questi erano i titoli, apriamo allora parlando di aeroporto, facendo una sorta di bilancio di quella che è stata la stagione estiva. Alghero sostanzialmente in linea con i dati dello scorso anno, lieve crescita dei passeggeri internazionali, ma gli oltre 600 mila dell'estate 2015 sono ben lontani. A piccoli passi l'aeroporto di Alghero prova a recuperare il terreno perduto, mentre Cagliari e Olbia volano. E' questo il quadro che emerge dopo i dati di agosto pubblicati da S-Aeroporti. Lo scala algherese è nuovamente superato, 200 mila passeggeri dopo due anni chiusi al di sotto, 200 mila 619 complessivamente, con un più 14% di quelli internazionali. Dati comunque inferiori a quelli del 2015, ultimo anno in cui Ryan era mantenuto la base annuale. Ma con i dati di agosto è possibile anche fare un confronto tra le varie stagioni estive, prendendo in considerazione i mesi clou, quindi anche giugno e luglio. I 640 mila 692 passeggeri del 2015 sono lontanissimi, ma quantomeno lo scalo algherese ha recuperato qualcosa, passando dai 540 mila 597 passeggeri tra giugno e agosto del 2017, ai 559 mila 136 di quest'anno. Gli altri due aeroporti sardi, Cagliari e Olbia invece, come detto, volano. A giugno hanno già abbondantemente superato il milione di passeggeri, mentre Alghero, da gennaio ad oggi, ha fatto registrare 955.706 passeggeri. Soltanto nel 2015 riuscì a superare un milione. Numeri che fanno riflettere, che mostrano come Cagliari e Olbia abbiano un altro passo rispetto allo scalo della riviera del Corallo. È sempre stato così, ma l'addio di Ryan era accentuato questo trend. Negli ultimi due anni, con F2I alla guida, Sogeala ha provato a ricostruire il network, ma la ripresa è lenta e i rumors su un possibile disimpegno della compagnia irlandese non aiutano. A proposito di Ryan era ad oggi, paiono confermati tutti i collegamenti e le relative frequenze dei voli stagionali degli ultimi anni. Ci sarà poi anche Isigette, che ha confermato il volo annuale per Londra e ha caricato sul sito anche le date per Berlino, con il collegamento che ad oggi sarà operato solo a luglio e agosto, in attesa che la regione acceleri sul bando della destagionalizzazione. Luci e ombre, dunque, sulla stagione estiva appena trascorsa, anche sul fronte della recittività, ovviamente, perché l'ha spiegato Marco Di Gangi, presidente di Azionoghiero e dell'associazione Domus. A luglio, in un'intervista qui proprio a CatalanTV, si era parlato di luci e ombre sulla stagione turistica. Luci e ombre che permangono a maggior ragione al fine di questa stagione estiva? Certamente sì. Diciamo che gli aspetti positivi sono stati colti e sono quelli di un flusso che comunque c'è stato, un po' da tutta Europa e dall'Italia. Le ombre rimangono anch'esse però incombenti, soprattutto in vista dei mesi di spalla e particolarmente però della prossima stagione estiva. È fondamentale cambiare approccio, mentre in agricoltura purtroppo il maltempo a volte è imprevedibile e danneggia i raccolti, nel turismo la gestione non deve essere improvvisata, deve essere programmata e bisogna già guardare al domani, tenendo conto di quelli che sono i fattori di rischio. Per cui dobbiamo in qualche modo fare in modo che Alghero, ma tutto il territorio, torni ad essere estremamente competitivo superando quelle che sono le criticità, dai trasporti in primo luogo alla capacità della città di far fronte ai flussi che arrivano. Per cui parlo del traffico, parlo delle difficoltà legate ai parcheggi e poi soprattutto parlo però della esigenza di pianificare una promozione turistica della città nei mercati di riferimento. Adesso speriamo, dovrebbero partire i collegamenti della cosiddetta destagionalizzazione, ecco su quelle destinazioni sarà opportuno che gli operatori, ma l'amministrazione comunale in primis e la fondazione che dovrebbe assolvere questo scopo si diano da fare per cercare di investire su quei mercati perché altrimenti veramente correremo il rischio di uno spreco ulteriore di risorse pubbliche. L'associazione Domus raccoglie una serie di strutture recettive extraalberghiere, come è andata questa stagione? Sì, ripeto, anche lì luce e ombre perché ormai si devono fare i conti con un'offerta incredibile dal punto di vista numerico, spesso un'offerta incontrollata e senza regole che sconfina nella concorrenza sleale. Per fortuna adesso la legge regionale sul turismo è stata integrata prevedendo una disciplina specifica sulle seconde case i cui proprietari dovranno comunicare prima di disporre degli immobili sul web, dovranno comunicare questa intenzione al comune e alla regione. Per cui questo determinerà sicuramente la possibilità per tutti di stare sul mercato ed è giusto e legittimo che chi ha un immobile lo possa sfruttare. Dall'altro lato però questo mercato sommerso che è veramente incredibile in termini di numeri potrà essere finalmente governato e potranno essere conosciuti i veri numeri, i veri arrivi e il valore delle vere presenze. Si leggono strane dichiarazioni dell'onorevole Tedde sul grande percorso di stabilizzazione dei lavoratori che si sta concretamente attuando nel servizio sanitario regionale dopo averne progressivamente dettato le linee di programmazione obbligatorie per legge ma mai adottate dalla maggioranza dello stesso onorevole in anni di nulla e di degrado è messo in sicurezza i conti, così l'assessore della sanità Luigi Arru sulle polemiche riguardo la stabilizzazione degli amministrativi nell'ATS. L'onorevole Tedde non ricorda che ha creato il precariato indecente e che in ogni modo in misura legittimamente possibili si sta sanando dopo i presupposti programmatori messi dall'attuale giunta negli anni di questa legislatura e l'attuazione dei commissari prima e dai direttori generali poi. Il precariato, afferma ancora Arru, era stato creato e alimentato dal governo regionale precedente dalla maggioranza di centrodestra con tutti i suoi alleati nelle varie antiche spartizioni territoriali con tratti interinali a singhiozzo e continui con scelte singolari, con tratti a tempo determinato con proroghe continue, collaborazioni coordinate e continuativa intermittenza. Arru ha fallito nella sanità ma è da mirare per la sua sfrontatezza, questa è invece la replica del consigliere regionale di Forza Italia Marco Tedde che aveva, come ricorderete, proposto un'interrogazione a Pigliaro, sottolineando come la TS avesse colpevolmente deciso di stabilizzare solo i precari del comparto sanitario e tecnico lasciando a casa il personale amministrativo. Inspiegabilmente invece di Pigliaro ha risposto a mezzo stampa Arru evitando di utilizzare le vie ufficiali non replicando nel merito dell'interrogazione la cui fondatezza è certificata da atti amministrativi dice Tedde. Ma come uso fare? Voltando la testa all'indietro e cercando di scaricare le sue responsabilità su amministrazioni precedenti, scrive ancora l'ex sindaco in una nota. Se nei confronti dell'assessore sia da parte della sua maggioranza che dell'opposizione vengono proposte emozioni di sfiducia e atti di censura, sottolinea l'esponente forzista, vi sono molti motivi che si compendiano in uno solo. Arru ha fallito nella gestione della sanità sarda a partire dall'accorpamento delle aziende e l'istituzione dell'ATS per proseguire con l'aumento del deficit, la Reus che non funziona e con il piano di riorganizzazione ospedaliera che è stato ammazzato in culla dal Ministero al quale è stato inviato nonostante il di Castello non avesse titolo per esaminarlo, posto che la Sardegna paga il proprio servizio sanitario. Seguire il disastro nella gestione della patologia diabetica che coinvolge circa 100.000 ammalati e 300.000 familiari faccia cessare questi disastri Arru e restituisca la speranza alla sanità sarda con un atto di intelligente eutanasia politica si dimetta, conclude Tedde, invitando dunque a punta le dimissioni Arru. Ci fermiamo adesso per una prima pausa pubblicitaria. Questa mattina la sala di rappresentanza del Consiglio Comunale è ospitato alla conferenza stampa riguardante il protocollo d'intesa siglato dalle città di Pesaro e Alghero e finalizzato alla collaborazione e sperimentazione di forme di valorizzazione integrata negli ambiti della cultura e del turismo. Protocollo che era stato firmato inizialmente a Milano, tra l'altro alla presenza dello stilista Antonio Marras. Una bella opportunità di scambio hanno sottolineato questa mattina i due sindaci, l'algherese Mario Bruno e il pesarese Matteo Ricci. Questa mattina li abbiamo intervistati, iniziamo con il primo cittadino marchigiano che ieri al Teatro Civico ha presentato tra l'altro il suo libro. Iri in teatro per la presentazione del libro e per un dibattito con altri sindaci della Sardegna. quest'oggi per firmare un protocollo d'intesa importante tra Alghero e Pesaro. Sì, stiamo già collaborando da quasi un anno con la città di Alghero, è nato un rapporto di amicizia molto forte e soprattutto abbiamo una strategia comune, quella di far crescere le nostre città sulla cultura per intercettare flussi turistici nuovi che arriveranno nei prossimi anni, in particolar modo da paesi di turismo emergente come la Cina o come altri paesi soprattutto dell'est del pianeta. Sono tante le persone che cercheranno l'Italia, il rischio è che vadano soltanto nelle grandi città artistiche, Roma, Firenze e Venezia, che hanno anche qualche problema, mentre invece noi abbiamo bisogno di rafforzare la rete che punta sulla cultura per offrire appunto una proposta turistica nuova e portare valore aggiunto nelle nostre città. Noi lo stiamo facendo tantissimo con la musica, abbiamo ricevuto il riconoscimento dell'UNESCO proprio l'anno scorso, Alghero ci ha provato e ci riproverà e noi saremo a fianco ad Alghero per il tema dell'artigianato e in generale vogliamo far crescere culturalmente le nostre città per vivere il riturismo tutto l'anno. Tornando all'incontro di ieri, si è parlato del ruolo dei sindaci, il ruolo dei sindaci che è tornato un po' in auge, possiamo dire in questo momento di crisi, forse soprattutto per il Partito Democratico? Beh intanto perché credo che si comincia a capire che serve la gavetta dei sindaci, c'è tanta improvvisazione a livello nazionale, quest'idea che tutti possono fare tutto, poi produce governanti che non sono in grado di rigovernare. I sindaci invece rappresentano un'esperienza concreta sui territori che può diventare sempre più importante per il Paese. A maggior ragione nell'ambito del centro-sinistra che deve ritrovare una rotta per ripartire, l'esperienza dei sindaci a mio parere è quella dove si applica meglio il riformismo concreto ed è per questo che noi abbiamo una squadra eccezionale sui territori che dobbiamo valorizzare e deve diventare protagonista di questa fase di ripartenza. Ora invece sentiamo il sindaco di Alghero, Mario Bruno. Con la firma di oggi possiamo dire se rinsalda ancora di più il rapporto tra Alghero e Pesaro? Ma sì, di fatto già iniziato con l'anno rossiniano che abbiamo celebrato in città, con lo spazio T, con Ignazio Chessa, con lo teatrì, con il maestro Puglia, ma soprattutto con la città. Due città che puntano sulla cultura, sull'arte e sulla musica, non soltanto sul turismo balneare. L'accordo di collaborazione nasce all'interno della rete delle città creative dell'UNESCO insieme a Pesaro. Pesaro è già città UNESCO per la musica. Stiamo lavorando invece per un dossier che riguarda Alghero, che riguarda il nostro corallo, il nostro artigianato artistico e la cultura che questa città vuole esprimere. Una destinazione che con Pesaro, con Bologna stiamo cercando di portare ad un livello che credo questa città meriti. Nell'accordo di oggi, che tra l'altro è stato siglato anche a Milano, a casa di Antonio Marras, una collaborazione che si rinsalda. Ci saranno alcune altre iniziative a Pesaro da parte di alcuni gruppi teatrali agheresi. Ci sarà anche un ritorno di Pesaro nella nostra città con altri eventi. Le luminarie, una volta concluso il periodo natalizio, andranno a Pesaro sulla loro specifica richiesta. Queste algheresi ci sarà anche da questo punto di vista uno scambio, credo molto fruttuoso per entrambe le città. Atto vandalico, l'ennesimo purtroppo dobbiamo sottolineare al centro storico di Alghero. Ancora una volta è stata presa di mira la nicchia che custodisce la Madonnina di Portosalve sotto l'arco che collega il porto turistico a Piazza Civica. In passato era stato imbrattato il vetro della nicchia, stavolta invece la scorsa notte qualcuno ha pensato bene di scassinare come vediamo da le immagini realizzate proprio questa mattina, ha pensato bene di scassinare letteralmente il contenitore per le offerte. Sono iniziati ieri ma sono stati interrotti causano al tempo i lavori di fresatura e asfaltatura di diverse strade urbane, a tal proposito ricorderete le numerose segnalazioni di cittadini raccolte dalla nostra redazione sulla situazione critica in diversi quartieri cittadini. Una di queste strade maggiormente segnalate era proprio via Perpi, neanche vediamo proprio nelle immagini, i lavori che sono iniziati ieri nella via che abbiamo citato proseguiranno nei prossimi giorni in via Sassari, nel tratto compreso tra via delle Nazioni Unite e via Mattei e via Canepa, tra via Porrino e via Manzoni. Si passerà quindi alla semicarreggiata lato mare di via Garibaldi, in via l'Europa, nelle aree di intersezione con via Malta e via Castelsardo, nella via Castelsardo nel tratto compreso tra via Domenzoni e via Fratelli Cervi, via alle Primo Maggio, limitatamente al tratto di semicarreggiata compresa tra via dello Cirocco e via del Libeccio con direzione Fertilia a Lughero. Nei prossimi mesi il cronoprogramma del rifacimento dei nuovi asfalti riguarderà altri quartieri e nuove strade, hanno fatto sapere nei giorni scorsi dal Comune, tutti gli interventi tengono infatti conto del piano di riqualificazione delle reti idriche e fognari in corso di realizzazione all'interno del più ampio progetto al Ghero e riguardano il piano di adeguamento e messa in sicurezza delle infrastrutture viarie che dal 2017 ha portato alla realizzazione di nuovi asfalti in diverse strade urbane tra il 2018 e i primi mesi del 2019 prevede un investimento di circa 1 milione di Euro su tutti i quartieri. Ci fermiamo ancora per un altro break. Pomeriggio al Parco, martedì scorso nel segno di Monsignore Emerle, l'occasione appuntamento al Parco Emerle realizzata dalla cooperativa Ecotoni Onlus di Alghero, visto protagonisti un folto gruppo di persone provenienti dalla Germania, dall'Austria e dalla Svizzera per conoscere Alghero e luoghi amati dal loro vescovo Monsignore Emerle, vescovo tedesco di Aquisgrana, una delle personalità più significative della chiesa del secondo novecento, era infatti un amico della città di Alghero. A guidare il gruppo, Wilfred Hagemann, amico personale di Emerle, con il quale ha condiviso il lungo percorso spirituale. Ad accogliere la delegazione tedesca c'era invece il sindaco di Alghero, Mario Bruno, e gli altri partner del progetto, tra cui il sindaco di Milis, Sergio Vacca. E in chiusura spazio al calcio giovanile, in occasione della nuova stagione sportiva 2018-2019, venerdì sera infatti la SS di Nettuno, sul proprio campo di Via De Gasperi, ha organizzato un evento per presentare alle squadre che in ogni categoria disputeranno i rispettivi campionati, presenti ovviamente i vertici societari capitanati dal presidente Alessandro Marella, dirigenti, allenatori, giocatori e ovviamente i genitori. Inoltre alcune vecchie glorie di Alghero e Cagliari Calcio che successivamente si sono sfidate in una partita di calciotto alle 18, sfilate in campo di tutte le squadre, accompagnate dagli allenatori, dai minimicro agli allievi, con un ultimo ingresso in campo insieme ai bambini e ragazzi delle vecchie glorie del Cagliari e della polisportiva Alghero. Presenti anche, tra l'altro, Giovanni Viola, manager delle vecchie glorie del Cagliari, Vittorio Dalerci, manager delle vecchie glorie dell'Alghero. Non è voluto mancare nemmeno il sindaco Mario Bruno, rappresentanza delle istituzioni, così come non sono mancati i tifosi e i simpatizzanti delle due rappresentative che hanno segnato il passato glorioso di entrambe le società isolane. Il calcio giovanile, soprattutto, chiude l'edizione di oggi del nostro telegiornale. Io vi lascio, come sempre, a Meteo. Grazie per essere stati con noi e arrivederci. Grazie per essere stati con noi.